La pubblicazione in oggetto è il risultato di una collaborazione con il gruppo del professor De Maria dell'Università Cattolica di Roma e del dottor Vitale dell'Università di Torvergata. In questo studio abbiamo dimostrato come alla base della resistenza farmacologica delle cancer stem cell del colon siano i meccanismi del riparo al DNA. Quindi la caratterizzazione di questi meccanismi ha consentito l'utilizzo di un farmaco in grado di bloccare, di inibire la riparazione del DNA come un agente terapeutico del tumore del colon. Dona il 5x1000 alla nostra ricerca che cura.